Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi quante novità si riescono a trovare raschiando di prepotenza nel fondo del barile, nelle cartelle più nascoste dei codici sorgenti di Fortnite. Ogni giorno novità che vi permettono di rimanere super aggiornati con tutto quello che c'è nel dietro le quinte del nostro videogioco preferito. Nel video di oggi ragazzi parleremo dell'arrivo del nuovo fucile pesante e vi farò anche vedere un gameplay con tanto di prova su pista, chiamiamola così, molto interessante come nuova arma che dovrebbe arrivare tra pochissimo, ma parleremo anche di aggiornamenti riguardanti le news dell'evento Cactus. Come vi anticipavo nel video di ieri mattina ci sono giorno per giorno nuovi elementi che vengono inseriti e quindi leccati e scoperti prima che vengano pubblicati ufficialmente e ovviamente un bel po' di leaks se riusciamo ad avere tempo di farveli vedere, sempre per tenervi super all'avanguardia con quello che succede. Ma prima voglio ringraziare di cuore tutti coloro che utilizzano il mio codice creator XIUDERONE. Grazie di cuore ragazzi per sostenermi nello shop quando scioppazzate di prepotenza. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima ve la devo fare, ve la devo fare, voi mi rispondete sempre in tantissimi e vi ringrazio un sacco ma la domandina, la domandina è d'obbligo ragazzi ed è una domandina molto molto interessante. Voglio sapere la vostra opinione, ma il tuo premio preferito della 14 giorni di Fortnite, qual è la 14 giorni d'estate? Io li ho visti tutti i premi ragazzi, non so se voi li conosciate tutti, non ve li voglio spoilerare. Qual è il vostro preferito in assoluto? Escludendo il premio finale, che secondo me è carino, il mio preferito ragazzi è la Camo per le armi. Un ricordo bellissimo, tropicale, che mi farà venire in mente quest'inverno quando farà freddo, di questi giorni caldi dove, a lei, il freddo non lo si subisce. Comunque, scherzi a parte, è davvero meravigliosa come copertura. Ma quindi, ciancio alle bande, il bando alle ciance. Andiamo subito subito a parlare ragazzi del primo argomento di oggi, che è proprio il fucile pesante a tamburo. Batti il tempo delle tue eliminazioni con il nuovo fucile pesante a tamburo. Tra l'altro ragazzi, un'arma che si pensava all'inizio fosse una specie di pompa, in realtà mixa la velocità di un'arma a ripetizione con la potenza dei colpi di un pump. Come vi anticipavo, ho un gameplay che voglio farvi vedere ragazzi, e ve lo faccio infatti subito subito vedere, che davvero vi lascerà a bocca aperta. Vediamo un bel po' di audio, ho ciò che spara forte, ho ciò che spara forte, guardate un po'. Mica la putteanza. Senti che cattiveria. Come si vede, sappiamo, vediamo ragazzi, così, di salire a bordo signori, ma perché? Come si dice, sette colpi nel caricatore ragazzi, quindi mi fa pensare che ci possono essere otto colpi nel mag size, quindi nel caricatore. E come vedete, abbiamo già una rarità che è raro, secondo me lo troveremo in tre varianti, non comune, raro ed epico. Perché come vedete, il leakers che ci ha portato questo gameplay, lo è andato in realtà a prendere, come vedete quando lui droppa, si vede l'immagine del fucile pesante, tattico, quando va a dropparlo. In realtà, eccolo qua ragazzi, in game, il nostro fucilezzo, devo dire che è molto molto interessante, sia come potenza, sia come forma, come utilizzo, e probabilmente potrà avere un grande impatto per quando vai a fare le 1v1. Quindi tanta roba, secondo me, spara molto più veloce di come abbiamo visto. Quindi ragazzi, ovviamente, staremo a vedere non appena avremo delle informazioni migliori. Ma andiamo avanti e parliamo, ovviamente, anche di un leaks, come vi avevo anticipato, ieri per sbaglio, Epic Games, spoiler, un balletto che non è ancora stato presentato, è il Crab Dance o qualcosa del genere. Ve lo voglio far vedere ragazzi, perché è davvero molto divertente e potrebbe anche arrivare oggi nello shop, questo video è registrato prima dello shop del 2 luglio, ed è questo il balletto. Non male. Ha spoilerato direttamente sulla pagina Twitter. Una curiosità, ah, qua siamo sempre al Tactical Shotgun. Una curiosità ragazzi, infatti, come vi dicevo, come vi facevo vedere, che probabilmente arriverà sicuramente come premio dei 14 giorni di Fortnite. Ma proseguiamo e ovviamente cominciamo anche a far chiarezza sull'evento Kattus, quello che arriverà probabilmente non appena il team di Epic Games tornerà dalle vacanze. Nel video di ieri ragazzi, avete visto questa immagine, questa la rifaccio vedere per chi, se la fosse persa, un piede delle dimensioni davvero incredibili. Lo vediamo meglio qua. E le dimensioni sono incredibili perché questa è l'altezza dei personaggi. Guardate che storia ragazzi, ma come vi avevo fatto vedere, c'era una scaletta spoilerata da qualche leakers che ci indicava i vari pezzi che dovevano apparire in game nelle varie cartelle criptate. Ed oggi era proprio il giorno del piede numero 2. Infatti ragazzi, guardate questa immagine, incredibile, siamo in uno spaccato dell'impianto a pressione e come vedete i due piedi ragazzi combaciano perfettamente con le piastre gialle enormi dell'impianto a pressione. Avete presente quanto sono grandi quelle piastre gialle? Ecco ragazzi, immaginate quanto possa essere alto un robot che ha due piedi grandi come le piastre. È meravigliosa questa immagine perché ci dà veramente la sensazione di cominciare a capire qualche cosa dell'evento che ci porterà. Ovviamente alla season 10, un'altra immagine interessantissima, ma non è stato l'unico oggetto inserito con l'aggiornamento privato, ovviamente non pubblico, dei file di gioco di ieri ragazzi. Guardate un pochettino, questi ve li avevo fatti vedere. Erano dei manifesti che arriveranno in concomitanza con l'evento. Abbiamo il Duck and Hoover, abbiamo Take the High Ground e abbiamo anche We Can Build It. Quindi sono, come vi anticipavo, tutti e tre relativi al robottone. Ma oggi ragazzi si trova un codice, una frase, una stringa diversa nella sottocartella Cactus Dogus, che è proprio i due mostri, tra virgolette, che si fighteranno. È stato aggiunto nel Cactus Promo, che è quindi proprio la promozione in game dell'evento We Want You in Fortnite Propaganda. Vi faccio vedere meglio, eccolo qua, magari riuscite a vederlo meglio. Che cos'è il We Want You? Beh ragazzi, dai, l'avete sentito di certo. È ovviamente un richiamo a quello che fu lo sponsor che l'America fece per richiamare i soldati ad arruolarsi nell'esercito, nei conflitti mondiali. Ovviamente non dobbiamo aspettarci che l'immagine sia quella originale. Io mi aspetto di vedere una skin di Fortnite e potrebbe essere tranquillamente un orsacchiotto, un Cuddle Team Leader, ragazzi. Perché no? Quindi ragazzi, la cosa che sappiamo è che molto presto dovremmo capire se saremo noi, i personaggi di Fortnite, a creare il robottone o se invece vedremo solamente il combattimento. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollizione in su. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alle 8 in live. Ciao!